L'acido ialuronico si utilizza nella terapia infiltrativa da oramai una ventina d'anni. I punti, le acquisizioni sono molte in termini di efficacia, in termini di sicurezza, ma anche rimangono alcuni punti interrogativi, soprattutto alla luce di un atteggiamento non sempre favorevole da parte delle linee guida internazionali sulla terapia dell'artrosi. Se ne è parlato molto qui a Roma in occasione del quinto simposio nazionale dell'antiage e noi facciamo il punto su questi temi col professor Bruno Frediani, un bel esperto appunto di artrosi, di artrite, insomma di malattie infiammatorie e degenerative del sistema muscolo-scheletrico. Allora, professore, innanzitutto uno dei temi che sono stati dibattuti qui all'antiage è il significato della terapia infiltrativa, ovvero la dobbiamo pensare come una terapia sintomatica, che ci deve dare al paziente quando non sta bene, quando ha male, quando ha dolore? Allora, sicuramente l'acido ialuronico, e questo è nella pratica quotidiana, ha un effetto anche sintomatico, ha un effetto antinfiammatorio, naturalmente non si contrappone agli antinfiammatori, l'artrosi non è l'artrosi, sono le artrosi. Quindi vi sono artrosi in cui vi è una componente infiammatoria più importante che richiede l'uso di steroidi e antinfiammatori, artrosi in cui è presente la condrocalcinosi, artrosi in cui invece c'è un dolore prevalentemente meccanico, quindi è un pianeta l'artrosi e il paziente va diagnosticato bene, anche perché a quel punto, sebbene utilizzato, anche l'acido ialuronico ha un effetto sintomatico. E questo nelle linee guida in qualche maniera viene dichiarato, anche se si dice che l'effetto dell'acido ialuronico non è così importante come per altri farmaci, questo non è vero perché in realtà è assimilabile, se si va a guardare alla letteratura, all'effetto del paracetamolo che non ha un grandissimo effetto antidolorifico, comunque ce l'ha. Quindi non è l'obiettivo principale della terapia con acido ialuronico quella di essere un sintomatico, ma indubbiamente tutti i giorni noi verifichiamo nella pratica ambulatoriale, nel breve, ma cosa più importante, nel lungo termine, l'efficacia anche antargica, antinfiammatoria. E quello ha pronunciato la parola lungo termine, quindi l'acido ialuronico può essere visto, come è stato proposto anche qui in sede congressuale, come una terapia di fondo dell'artrosi, quindi come una terapia da ripetersi ogni anno, una volta all'anno, due volte all'anno, questo poi dipende dagli acidi ialuronici utilizzati, può essere vista così? Va vista così e quindi va iniziata in stadi precoci radiologici e anche in fase clinica precoce e va comunicato al paziente che questo è un farmaco che può sicuramente migliorare la sintomatologia, ma è un farmaco che innanzitutto si è utilizzato regolarmente, a mio parere senza grossi intervalli, quindi bisogna programmare un trattamento iniziale e poi di mantenimento, questo è un farmaco che ha effetti sulla struttura della cartilagine, il problema è che indubbiamente non sappiamo che in letteratura gli studi con risonanza magnetica che vanno a verificare l'impatto dell'acido ialuronico non ci sono attualmente, però c'è qualcosa che sicuramente nel futuro verrà meglio documentato, ma è fondamentale iniziare e proseguire con regolarità l'acido ialuronico come terapia di fondo. Senti professore, se ne parla sempre per l'utilizzo nei pazienti con artrosi, può avere anche un significato nei pazienti con artrite, con artrite reumatoide? Può avere significato in un paziente con artrite o con altre forme infiammatorie che si sono spente e che portano dubbiamente a una degenerazione cartilaginea. Noi tutti sappiamo che sono dei pazienti in cui la terapia antiartritica non è più necessaria e in cui prevale la componente degenerativa cartilaginea può essere utile.